Benvenuti al Tg Sordi. Martedì mattina all'asilo della torre di Chiavari è crollata una parte del pavimento del corridoio. Nessuna persona che era all'interno si è ferita. L'intero edificio è stato dichiarato inaccessibile per ragioni di sicurezza e le varie realtà che operano all'interno hanno dovuto trovare soluzioni alternative. I 75 bambini dell'asilo saranno ospitati nella scuola dell'infanzia di ribasso. In Val Daveto e in Valle Sturla verrà realizzato il progetto Comunità in Salute. Prevede l'aumento di servizi di assistenza domiciliare per le persone anziane e per i malati cronici. I sindaci delle due valli sono però un po' preoccupati perché non ci sarà più una guardia medica fissa in ciascun comune. In caso di emergenza verrà contattato un medico che potrà partire da località lontane con tempi di attesa più lunghi. Il comune di Zoagli ha finito di contare i danni causati dalla mareggiata delle scorse settimane. I danni alle difese a mare sono meno gravi del previsto. I massi ciclopici si sono spostati ma non così tanto da richiedere un intervento complesso. Sarà sufficiente un riposizionamento tramite un pontone. A breve il comune farà la richiesta di fondi per riparare i danni alla mareggiata e all'illuminazione. CGL e UIL sono scese in piazza con manifestazioni in diverse città italiane per contrastare la legge di bilancio. È il secondo venerdì di seguito che protestano. Anche a Genova lavoratori e pensionati hanno partecipato ad un corteo sino alla prefettura, presenti alcune migliaia di persone. A Santa Margherita Ligure si è celebrata la giornata diocesana dei giovani. Ogni partecipante ha scritto su un cartoncino una frase sul tema della speranza e a fine serata ciascuno ha portato a casa il pensiero scritto da un altro. Alcuni ragazzi hanno raccontato la loro esperienza alle giornate mondiali della gioventù di Lisbona. Dopo cena i ragazzi e le ragazze hanno partecipato alla veglia con il vescovo. È sempre più difficile trovare case in affitto perché sempre più abitazioni vengono affittate ad uso turistico. Questo fenomeno crea alcuni problemi per chi cerca un posto dove vivere nelle città turistiche. Chi lavora nel settore chiede alle amministrazioni di fissare delle regole che permettano di limitare gli affitti brevi o di aumentare il numero di immobili a uso abitativo. L'azienda di trasporto pubblico locale AMT cambierà le sue tariffe. I biglietti singoli costano di più ma diminuiscono i prezzi degli abbonamenti. Inoltre i bus saranno gratis per gli under 14 e gli over 70. Questi cambiamenti entreranno in vigore dal 15 gennaio e saranno sperimentati per un anno. Passiamo allo sport, parliamo di calcio, Lega Pro. Lentella vince in trasferta contro il Pontedera per 1 a 0. Il Sestri ha pareggiato 2 a 2 con l'Olbia. Martedì prossimo i biancocelesti affronteranno nuovamente il Pontedera in Coppa Italia e sabato giocheranno in campionato con il Pescara. Era questa l'ultima notizia, l'appuntamento alla settimana prossima. Arrivederci! Grazie! 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 Grazie!